Qual è la vera posta in gioco nelle elezioni europee del 2019? Saranno davvero delle elezioni storiche? Le poste in gioco mi sembrano essere due. La prima posta in gioco è la credibilità dei paesi euroscettici o eurofobici. Vogliamo sapere naturalmente se davvero hanno un consenso nell'opinione pubblica europea, perché bene o male sappiamo che hanno torto, ma quando i voti vengono dati a loro dobbiamo pure fare una riflessione e prendere delle decisioni. Poi naturalmente l'altra posta importante è la credibilità dell'Europa. Sono due aspetti di una stessa medaglia. La credibilità dell'Europa si misurava una volta con il numero dei votanti. Avevamo l'impressione che l'Europa fosse popolare se molti andavano alle urne e che l'Europa fosse poco popolare se pochi andavano alle urne. Ma adesso ci troviamo in una situazione di grande imbarazzo, molto contraddittoria, perché se molti vanno alle urne il voto per i partiti euroscettici rischia di essere più consistente. E allora i partiti euroscettici avranno avuto il merito, per così dire, di mobilitare l'elettorato. A questo noi dovremmo però osservare che c'è un paradosso di cui i partiti euroscettici dovrebbero essere consapevoli. Non amano l'Europa, ma stanno usando l'Europa per dire che l'Europa non funziona. Ma allora funziona, se in qualche modo se ne servono. Perché questo per carità non è una novità. L'abbiamo visto con Farage, per esempio, il leader del partito indipendentista britannico. Non era ai comuni, perché non ha mai conquistato un seggio ai comuni, ma ha conquistato un seggio al Parlamento europeo e si è servito di quel seggio per fare una campagna anti-europea. Nel contesto internazionale di oggi, l'Unione Europea, così come la conosciamo, ancora senso o dovrebbe essere rifondata? Occorrerebbe rifondarla, a mio avviso. Ma occorrerebbe rifondarla non per tradire i principi originali dell'Unione Europea, ma semplicemente per rimediare a quell'errore che abbiamo commesso quando abbiamo allargato l'Europa al di là di qualsiasi ragionevole argomento. Immettere nell'Europa paesi che avevano una storia completamente diversa dalla nostra è stato un errore. Noi, il gruppo originale dei paesi che hanno costituito l'Unione Europea, era composto da paesi che avevano fatto la Seconda Guerra Mondiale e l'avevano perduta. E quella sconfitta li aveva educati in un certo senso. Aveva dimostrato che i nazionalismi non portavano da nessuna parte, che per sopravvivere occorreva unirsi. I paesi invece che abbiamo introdotto nell'Unione Europea a partire dal 2004 erano paesi che avevano fatto una storia completamente diversa. venivano da decenni di sudditanza sovietica e quindi erano felici di riconquistare la loro sovranità. Noi eravamo decisi a rinunciare alla nostra sovranità, quantomeno parzialmente, per rimediare ai gravi danni dei nazionalismi. Loro invece hanno interpretato l'ingresso dell'Unione Europea come una riconquista della loro sovranità. e di qui naturalmente i mali di cui siamo tutti stati testimoni. Quindi bisognerebbe in qualche modo rifare l'Europa eliminando paesi che non desiderano ciò che noi desideriamo. Però in questo momento non possiamo farlo perché rinunciare ad alcuni membri dell'Unione Europea dopo quello che è accaduto in Gran Bretagna, dopo Brexit, darebbe inevitabilmente al mondo la sensazione che l'Europa sta perdendo il suo fascino, la sua attrazione. Quindi per il momento dovremmo, credo, cercare altre strade. Quella che abbiamo adottato per Orborn potrebbe essere la strada migliore, cioè colpire puntualmente, facendo richiamo naturalmente alla Costituzione Europea, quei paesi che non vogliono l'Europa o che non la vogliono come noi la consideriamo utile e importante. Nel mondo di Trump e con le crescenti tensioni commerciali e politiche con gli Stati Uniti, avrebbe senso un riorientamento dell'Europa verso Oriente? Io ne sono personalmente convinto, per due ragioni, perché credo che la Russia sia stata trattata molto male. L'allargamento della Nato è stato certamente un errore, oltretutto ha portato all'interno della Nato paesi che non potevano che avere un forte dissenso nei confronti della vecchia Unione Sovietica, della nuova Russia e questo credo che sia stato un errore. E poi forse non abbiamo tenuto sufficientemente conto del fatto che la Nato non è un'alleanza politico-militare come quelle che si negoziavano fino alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, alleanza in cui ci si impegnava a collaborare nella previsione in vista di un particolare avvenimento. No, la Nato nasce per fare la guerra. La Nato è una macchina per fare la guerra, ha un capo di Stato maggiore che è sempre in servizio, ha un consiglio permanente che in qualche modo studia giorno dopo giorno qual è il nemico, in funzione di quel nemico, quali devono essere i piani strategici. La Nato ha bisogno di un nemico per sopravvivere e una delle ragioni per cui quel nemico è la Russia è che la Russia si presta bene ad essere il nemico e questo vale per alcuni paesi, non per tutti. Mentre invece il nostro rapporto con la Russia potrebbe essere completamente diverso. La Russia è un paese affamato di modernità, è un paese che ancora non è riuscito a fare la grande modernizzazione di cui ha bisogno. È troppo grande, ha fatto esperienze sbagliate, grossi errori dopo la fine dell'Unione Sovietica, ha creato una casta di oligarchi che in qualche modo hanno reso il capitalismo non amabile agli occhi della società russa e quindi non è facile aiutare la Russia sulla strada della modernità. Ma esistono almeno due condizioni che rendono questo rapporto positivo, che renderebbero questo rapporto positivo se potessimo realizzarlo. La prima condizione è che la Russia ne ha bisogno e la Russia è ricca, ricca di risorse naturali di cui noi abbiamo bisogno. Quindi esistono le condizioni per una compensazione, per un accordo in cui vincono tutti, in cui guadagnano tutti. E poi c'è un'altra ragione, molti giustamente sono preoccupati dal fatto che la Russia rimane nonostante tutto una democrazia autoritaria o piuttosto una non democrazia. D'accordo, sì, questo è certamente vero. Ma quello di cui la Russia ha bisogno è un centro sociale di piccoli imprenditori. Quelli non li ha mai avuti. E un centro sociale di piccoli imprenditori cambierebbe la società russa. E anche cambierebbe l'atteggiamento delle gerarchie, degli uomini del potere, perché bene o male dovrebbero fare i conti con una società completamente diversa da quella ad oggi. Quindi noi stiamo perdendo due occasioni, le risorse naturali della Russia di cui abbiamo bisogno e anche la possibilità di cambiare la Russia ma non come vorrebbero gli americani o quelli che la Russia non la amano. Ma in un senso positivo per tutti, spero. Quali sono le sue previsioni su Brexit? Si troverà alla fine un accordo con Londra? Vede, non riesco a credere alle dichiarazioni pubbliche perché dietro a ogni dichiarazione pubblica c'è in qualche modo una speranza, la speranza di chi desidera un accordo e la speranza come nel caso di Boris Johnson di chi invece non lo desidera assolutamente. Quindi non so se la signora May sia in grado di portare la nave in porto perché non controlla il suo partito. Noi non possiamo intervenire al di là di quello che abbiamo fatto perché non abbiamo interesse a che l'accordo sia troppo favorevole alla Gran Bretagna. Quindi siamo in questa condizione di non poter aiutare la Gran Bretagna al di là di un certo limite e nello stesso tempo di non poterci permettere la totale rinuncia alla Gran Bretagna. È una situazione piuttosto scomoda. Detto questo, se lei mi chiede un parere io direi che con la Gran Bretagna è meglio essere severi in questo momento piuttosto che concilianti.